L'inflazione in Germania a settembre è salita più di quanto si aspettavano gli analisti. Il costo della vita si è attestato al 2,6% in più, vale a dire più lo 0,1% rispetto al mese di agosto, contro una previsione per un 2,4%. Lo comunica l'Ufficio di Statistica di Berlino. I dati armonizzati europei indicano un incremento dei prezzi del 2,8%.